Musica E come l'anno scorso ormai è la vostra Coppa? Coppa di Natale punto 8 formato Ce la deve regalare Sì, sì, sì No, quest'anno è stato molto, molto più dura Questi veramente bravi Veramente bravi e sinceramente Sono over anche loro Anche se avevano qualche innesto Sì, beh, ne hanno fatti innesti qua Però comunque è stata una bellissima partita E beh, siamo andati in vantaggi 3-1 Sono passati loro i 4-3 Mi sembra di riviverla ancora questa partita Però i campi sono stati eccezionali quest'anno E merito loro Loro hanno dato l'animo fino alla fine Nessuno voleva uscire Purtroppo per le esigenze C'è chi ha giocato Sto guardando lui perché ha un minuto alla fine Lei tolta e non voleva uscire Non voleva uscire Però avevo bisogno di uno che rompeva le scatole lì davanti Lo so che tutti quanti vorrebbero giocare C'è chi ha giocato meno E ci saranno dei momenti in cui dovrà giocare di più Mi premio i risultati Giocano bene Sono contentissimo Dani, io ti devo soltanto il primo gol Spettacolare Cosa vogliamo aggiungere? Ma io diciamo che Nelle partite importanti ci sono sempre Finali la butto sempre dentro Quest'anno è andato bene Anche perché comunque abbiamo giocato contro degli Open Per arrivare fino in finale Abbiamo vinto E abbiamo meritato questa coppa Senza ombra di dubbio Abbiamo stato che siete una grandissima squadra Siamo un gruppo Niente Dedichiamo questa vittoria a due note Che ci ha permesso di partecipare a questo torneo E niente Siamo contenti E via la prossima Dico io una cosa Per chiudere Che sicuramente è stata una coppa di Natale Che magari si pensa che queste coppe qua Ci vanno le squadrette Invece è stata veramente una bellissima coppa Con tante belle squadre Un bel calcio E' vero Ecco Hai detto la cosa giusta Più che altro un bel calcio Pensavo che erano squadre molto più così organizzate Invece ho visto delle squadre super organizzate Che giocano a calcio Tutta la gente Dimostra che vincerla Se vuol dire che siete di livello alto anche voi Sì Quest'anno abbiamo fatto degli innesti Ma degli innesti forti per convincerli E si vede anche Però noi Stavamo dicendo Quando è che vi iscrivete all'Open voi? Quando è che vi iscrivete all'Open? Ormai questi qua 40, 41, 36 Volevo ringraziare Luca Mastrorocco Domani Domani Fa il compleanno Il nostro portiere Gauguri Mariano Vi facciamo gli auguri tutti Mariano auguri Tanti auguri ragazzi Auguri a Mariano Che fa gli anni 35 anni 37 35 meglio Per 37 Complimenti ragazzi Grazie Grazie Davidone Sei sempre gentile Ciao 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 Ciao